Attenzione qui, c'è Giulio, Giulio è molto forte, lo stai inquadrando, è un mio amico Ecco, faccine lì, no, aiuto No Aiuto, mi sto spettando le dita di prendere Attenzione perché è pericoloso Ma non è che non c'è più quel problema di prendere che ti prende male, penso ragazzo Oppure magari potrebbe riprendere male come faceva su Spendible No, no Aiuto Molto spazio per andare Sono da Vettorlo cercando i compagni Situazione di parità che potrebbe sbloccare grazie a questo calcio all'angolo Questo è tutto bianco Attenzione giù Che si chiama Giulio questo? Questo è il mio amico Situazione di parità Situazione di parità